Bentornati su Radio Design, sempre qui dall'Istituto Italiano Design. Io sono Nicola Palumbo, docente web marketing e con me oggi c'è Francesca Antonini, benvenuta. Buonasera, grazie, l'invito. Allora, tu sei una fashion designer, quindi abbiamo avuto modo nel tempo di avere qui tantissimi tuoi colleghi e colleghe. Intanto ti chiedo, qual è stata la tua formazione e come è nato poi in te il desiderio di diventare un fashion designer? Allora, il desiderio di diventare un fashion designer è stato un po', diciamo, istintivo, nel senso che sin da piccola ho imparato da sola a fare, mi è stata insegnata la mia madre a fare i vestiti da sola, a farmi cartamodelli vestiti da sola perché non trovavo le cose che mi piacevano e da lì poi ovviamente si è evoluta in una forma appunto di espressione o comunque di indipendenza mia da certe cose e poi nel tempo, pur sapendo disegnare, ho deciso di iscrivermi all'Università di Urbino perché ai tempi c'erano, diciamo, solamente due università importanti a livello statale che funzionavano, che era il Polimodo e quello di Urbino e in realtà ho rischiato di diventare ingegnere perché io ho fatto il liceo scientifico, sono molto brava in matematica e in materie, diciamo, fisica e queste cose qua, però l'esame d'ammissione per io volevo fare l'ingegneria allo spaziale all'Università di Urbino allo stesso giorno. Il destino ho scelto per te. Sì, ho scelto io perché, e quindi alla fine poi ho fatto, però devo dire che l'impostazione non ingegneristica, però abbastanza scientifica mi è rimasta perché io mi interessa sempre molto sapere come vengono fatte le cose, come si costruiscono, eccetera, e poi ho una, diciamo, infatti da questo punto di vista il mio percorso è abbastanza 360 gradi, nel senso che mi so fare cartamodelli, conosco molto bene i materiali, sono specializzata nella ricerca e sviluppo di materiali nuovi e quindi anche di nuove tecniche di manifattura, di realizzazione, per cui diciamo quell'imprinting, pur avendolo abbandonato il giorno dell'esame, comunque mi accompagna. Allora, intanto quali sono stati i primi tuoi passi in questa carriera, diciamo, e poi cosa sei oggi? Allora, i primi passi sono stati che sono stata abbastanza fortunata perché quando ero al liceo ho avuto la possibilità di, tramite una persona che lavorava in questo settore, di concorrere per una borsa di formazione professionale della CE, e quindi che era il tempo però il progetto Petra, e quindi appena finito il liceo sono andata praticamente in Olanda a lavorare per questa azienda che era una delle prime che si occupava di produzione in Far East, il capo era coreano. Cosa vuol dire in Far East? Far East dell'Estremo Oriente. Ah, in quel senso? Sì. Non pensavo fosse un prodotto. No, non era Far West, era Far East. Il mio capo era coreano e facevamo ai tempi, che erano i primi anni 90, quando ancora qui non esistevano queste catene, io disegnavo per, diciamo, marchi come H&M, Zara, ma Zara non c'era ancora Mango, oppure, insomma, questi grandi gruppi, che facevano tutta la produzione appunto in India, in Cina, eccetera. E quindi il mio primo approccio è stato quello perché ho vinto questa borsa di studio prima di accedere all'università, quindi questa cosa mi ha dato anche un valore aggiunto perché poi quando sono andata a studiare io sapevo abbastanza bene cosa avrei fatto dopo e poi ho mantenuto questa collaborazione per tutto il periodo universitario e poi una volta finita l'università ho fatto un corso di specializzazione presso questa scuola internazionale di calzature e pelletterie che si chiama Cercal in Romagna, nel distretto calzaturiero dove c'è Casadei, Sergio Rossi e loro, come tecnico della forma. E quindi poi dopo queste cose mi hanno dato un valore importante perché a quei tempi ancora non c'era moltissima gente che innanzitutto faceva il fashion design e che aveva esperienze già all'estero e poi ancora non c'erano tantissimi che facevano anche accessori o calzature soprattutto se andavano in un'azienda che faceva total look perché ai tempi era molto diviso, anche le fiere erano molto più divise anche come tempistiche, come cose, invece adesso ovviamente tutto molto più, diciamo, fuso e soprattutto gli accessori sono una parte molto importante del fatturato di molte aziende, anche grosse. Quindi questa cosa mi ha dato un valore in più e poi con il tempo c'è stato un percorso però diciamo mi sono formata soprattutto nel prodotto di ricerca, di nicchia, di alto livello high-end insomma e quindi questo è. Però con una formazione sia di prodotto che di fashion designer che di gestione. Per un periodo ho avuto anche una mia collezione uomo che presentava a Parigi quindi diciamo ho fatto varie cose. Hai fatto un po' di tutto. Mi sono impegnata. Allora la domanda che facciamo un po' tutti è dove sta andando secondo te questo settore e quali sono i paesi che magari traineranno fra i dieci anni questo mercato a livello di design? Allora, beh adesso il problema è che, e non so come dirti, il design non è più solamente design e quindi l'importanza da un punto di vista creativo. Il design è diventato anche importante da un punto di vista retail, no? E comunicativo e quindi il fatto che tu possa essere anche, può essere le risorse per diciamo raggiungere determinati volumi e soprattutto essere presente in determinate cose. Per cui da un punto di vista di mercato, trainante sono ovviamente i mercati emergenti che possono essere la Cina che anche se adesso tutti parano che c'è una normalizzazione nel mercato perché loro anche se sono in crescita, ovviamente non essendo in crescita tipo del 20% per loro, solo al 10% sono in crisi e poi molti si stanno rivolgendo anche ai paesi tipo Messico, Africa, eccetera, come mercati emergenti perché ovviamente tutti quanti stanno cercando di, siccome devono crescere in volumi o mantenere comunque, supplire a quei mercati che stanno diciamo un po' in depressione come può essere l'Europa per esempio e allora cercano nuove fonti di adepti, tra virgolette, e ovviamente di volumi. Però dal punto di vista design, per esempio ho fatto un corso adesso, una masterclass in Cina e la Cina c'è molta voglia adesso di avere una propria creatività, una propria identità creativa perché loro per il momento hanno sempre, soprattutto si sono diciamo ispirati a quello che è la realtà occidentale, perché hanno avuto ovviamente per ragioni storiche un vuoto di arte, di tradizione, eccetera. E quindi adesso c'è molta voglia di creare una propria identità creativa, di affermarsi a livello internazionale con un Made in Cina che rappresenti, se non il lusso, almeno un qualità ed eccellenza, che cosa fino adesso non c'è. Quindi quello che si stanno domandando loro adesso è come possiamo fare questa cosa. E allo stesso tempo ci sono sicuramente un occhio a tutte e tante altre realtà che sono quelli dei paesi emergenti, può essere l'India o anche il Messi o altri, di designers che riusciranno magari prima o poi ad affermarsi da un punto di vista internazionale, perché comunque le realtà ovviamente ci sono, non è che comprano solamente Made in Italy o Made in France, però non riescono a diventare, non so come dirti... Come percezione quella che abbiamo noi nel mondo. Sì. Per cui la voce internazionale secondo me sarà una delle prossime tendenze. Un po' perché ovviamente anche il melting pot culturale ha sempre dato voce a delle cose interessantissime. Quindi sicuramente questo melting pot che sarà di successo, comunque che crea la giusta alchimia, permetterà magari che emergerà il nuovo designer cinese o il nuovo designer africano, il nuovo designer che riuscirà comunque a... la moda è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e quindi creerà questo nuovo stile, questo nuovo, speriamo, no? Noi stiamo qui a guardare. Mentre tra gli accessori, no? Qual è l'accessorio che sta venendo fuori una novità, un qualcosa che prima magari era un po' sopito e invece adesso diventerà il must? Allora il must che è diventato diciamo nelle ultime stagioni più di sorpresa, i due must che sono diventati più di sorpresa che nessuno avrebbe immaginato sono state la ciabatta, la ciabatta proprio quella classica da palestra, doccia, capito, a fascia, che è uno degli articoli di Gucci più venduti anche perché ovviamente sono anche gli articoli più facili da vendere, nel senso chi vuole accedere all'idea del lusso, una ciabatta se la può comprare più facilmente che ovviamente un outfit Gucci dalla testa ai piedi. È un altro accessorio che diciamo è stato sdoganato che era diciamo non visto come molto glamour precedentemente è il marsupio, assolutamente. Il marsupio? Il marsupio, anche femminile ovviamente, non come quello di nylon del turista che mangia, come si chiama, il camoie all'autogrill, ma una cosa diciamo un pochino più curata. Il marsupio fashion. Sì, sì, il marsupio è proprio stato un accessorio che è molto sdoganato. Poi ovviamente, per esempio, se uno guarda la collezione della linea di accessori, l'ultima di Karl Agarfeld, che è defunto recentemente, lui ha fatto degli accessori molto carini, molto anche giovani, nuovi, quindi come si diceva la moda cerca sempre qualcosa di nuovo e quindi questo è diventato lo spunto, è stato un articolo accantonato negletto per tanto tempo e ora ha avuto la sua rivalta. Il suo momento di notorietà, ecco. Quindi quest'estate tutti con ciabatta? Ciabatta già c'erano. Lo dico, la combo micidiale dell'estate sarà ciabatta più marsupio. Ma la moda adesso, diciamo, la moda con il fatto che le nuove, innanzitutto si è molto, parlano tutti a livello di retail che deve essere consumer centric, nel senso che il consumatore è diventato il centro. Diciamo, parlano anche di moda più, è lusso più inclusivo, nel senso che non è più una cosa che cade dall'alto ma viene dalla strada, dal consumatore. Questo perché ovviamente quella rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale, Big Data ha permesso alle aziende, per loro adesso Big Data è il nuovo oracolo, quindi loro leggono queste cose e quindi si adattano moltissimo e cercano di essere sempre più vicino al consumatore. Quindi la moda ora con le nuove generazioni, perché millennials o generazione Y sono i nuovi consumatori del lusso, il lusso è quello che determina la linea che ha tutto il session system. Hanno anche una percezione della sessualità molto più fluida, no? Molto più non così categorico. Trasversale. Esatto, più trasversale, più aperta, diciamo. Comunque questo sta crescendo da un punto di vista. Quindi anche l'abbigliamento non è più così chiaro e sessuato, no? Non so come dirti. Infatti io banalmente quando vado a comprare dico figo questo, poi la gente che è con me dice sì ma questa è la donna, ma io non sto capendo più niente. Può essere sì, come tante ragazze. Quindi già lo street style non è diciamo un modo di abbigliamento sexy, diciamo, no? Quindi però il fatto è questo, per cui il fatto che ci sia il marsupo e la ciabatta, che uno dice di grigni ai denti, ma è effettivamente frutto di questa evoluzione, nel senso che poi magari, come tutte le tendenze, succederà fra un po' o qualche anno che si tornerà invece a una polarizzazione più, no? Dei sessi, eccetera. Però per il momento questo è quindi, molti stilisti anche fanno sfilare, che ne so, in passerella gli stessi capi messi da donne e uomini, proprio a sottolineare, però ovviamente questo implica un certo, no? Comunque compromesso il fatto che non può essere troppo di un certo tipo e quindi è più… Devi essere un po' smooth. Esatto, più piatto, più, diciamo, più democratico, ecco. Ok, quindi è sempre tutto più difficile, la sintesi di quello che hai detto fino ad ora, è che è tutto molto baumiano, potremmo dire, in termini filosofici, è tutto molto più liquido. Sì, sì, quello sì. Se non volevo scomodare Bauman, però effettivamente la società liquida poi si declina anche nel design. Sì, no, perché questo per forza, poi dopo dipende anche dal fatto che, sai, la società liquida è proprio nata dal fatto che si sono rotte delle strutture di valore, rotte le strutture di comunicazione, no? E quindi esiste questo, diciamo, lo chiamano il global brain, no? Questa cosa, questa entità globale dove tu non hai più bisogno di avere delle cose, di conoscere delle cose, ma hai tipo rivolgere a questo cervello elettronico, in virgolette, comunque questo cervello virtuale dove tu hai le risposte e quindi non essendoci più questi boundaries, questi limiti, è tutto più liquido. E' tutto più facile. Va bene, grazie, è stato molto interessante, poi se torni a trovarci, torniamo su questo argomento che secondo me è molto interessante da questo punto di vista. Va bene, allora per chiudere i tuoi riferimenti, dove ti troviamo? In rete? In rete? Attenzione, parlavamo di big data. In rete? Io sono un po' una… Antirete. Sì, allora ti cerchiamo sui numeri telefonici. No, 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 io diciamo sui social sono solamente su LinkedIn, quel cui… Ah, beh, va benissimo. Mi troveranno su LinkedIn. Cercheranno il tuo nome su LinkedIn, allora. Perfetto. Va bene, grazie.